che li ritroviamo giù al buco della strega andiamo andiamo su su e sto aspettando che andiamo su tutti e su dobbiamo portarle su e sono qua dove metterle di cazzo infatti lascialo stare perché tiralo via questo che tu sei più forte spaccalo e basta questo però se lo tagliamo questo è d'epoca vuoi un fiato dai vi una per un che in un attimo sono su una per uno non fa male a nessuno minchia questa non me l'aspettavo però è è sempre più friabile scusa ma se ci fermiamo a metà e ce le facciamo passare magari è meglio giusto aspetta e marco occhio i sassi questo visto che mi piace questo è davvero d'epoca che barboni comunque guarda sì dai siamo così che ce le facciamo passare su eh fa niente fermati fermati vai a recuperare le altre e le facciamo passare su e adesso le recuperiamo dai 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 le portiam di recupera le altre due o tre e via butta la buttala che mormige dai ho detto buttala non buttati vai aspetta che recuperiamo le altre due o tre è che qua non si vede una pippa arrivo aspetta stavo guardando dove erano quelle arrivano i soci no no e 4 ce ne sono qua